Il Giorgio di Berghamo Il Giorgio di Berghamo Il Giorgio di Berghamo Temperatura abbastanza clemente con un bandiere standardi e un ex giocatore alla morte Intanto seguiamo questa stazione d'attacco e subito Luiso che si porta in area di ritorno ancora la panchina con Marcon, Dell'Icarri, Maccoppi, Britti e Tentoni l'allenatore Bortolo Mutti l'arbitro è il signor Messina di Bergamo attenzione a Luiso scatta Luiso cerca di entrare si chiudono le maglie della difesa ancora Luiso in possesso di palla il fallo netto di Baresi in ritardo cerca di intervenire c'è un fallo nettissimo incredibile Luiso fermato il tiro e in gol rivediamo l'azione vedete Luiso che cerca non si riesce perché interviene c'è questo lancio per Luiso Luiso rovesciata e gol! grandissimo gol di Luiso Luiso alza il pallone la rovesciata passato Rossi imprendibile comunque sul palo è entrato gran gol grazie a tutti grazie a tutti